Konnichiwa cari Giappamici e benvenuti a voi qui nel mio canale sono sempre il vostro Giappogamer e benvenuti quest'oggi qui su Blind Fate Edo Noyami per continuare questa avventura incredibile nel Giappone feudale totalmente di periodo Edo totalmente distopico e che vede ergersi un samurai addirittura cieco andare contro le macchine per difendere il Giappone e allora siamo giunti esattamente all'episodio numero 31 questa serie chissà cosa accadrà quest'oggi al nostro amico Yami ma comunque si mi consiglia quello di iscrivervi al canale e di attirare la campanella allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Blind Fate Edo Noyami ok allora vediamo un po' qua siamo col cagnolone che purtroppo in ultimo episodio c'è rimasto insomma oro cagnolone mamma mia vediamo un po' cosa comporta questa cosa ecco il salami già giustamente giusto vuole questo ok ognuno la prima parte ok già in bocca al lupo allora vediamo un po' c'è qualcosa raccogliamo i dati ok stiamo dentro il palazzo dello shogun e procediamo vediamo un po' eh speriamo speriamo stiamo in per entrare nel palazzo e ok procediamo fatto fuori fatto fuori fatto fuori fatto fuori bene così eeeh si c'è proprio da attaccare eeeh maledetta e schioppa oh ma vabbè ok procediamo per di qua oh vediamo un po' vai così vai col triangolo e quadrato e quadrato fatto fuori eeeh e che caspita e becchi questo così fatto fuori bene c'è qualcun altro no saliamo e che caspita bionigami vabbè eh già incredibilmente modesta modestina diciamo si non da te eh non morire ok vediamo un po' ok fatto fuori i suoi robottini eh bene così e fatti prendere ok e schioppa bene c'è qualcosa qua ma direi di no proseguiamo e ci sei tu vai così vai col triangolo quadrato fatto fuori eeeh che caspita beccato quadrato triangolo e quadrato bene fatto fuori grande scalinata eeeh che caspita ok ok vai attacca ok fatto fuori eeeh 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 che caspita sfida e becchi questo qua così e crepa oh bene così bene così allora sblocca il tunnel vediamo un po' accesso negato cazzarola livello 3 richiesto porca la miseria c'ha boia ah cazzarola vabbè continuiamo e ok cari gioppimici eccoci qui nella schermata principale dei titoli questo blind fate edono yami eeeh allora anche oggi ovviamente questo episodio numero 31 di questa serie ovviamente termina qui se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciarmi un like commentate fatemi inserire la vostra condividete se potete con vostri amici lungo e largo seguitemi i vari social vi ripeto come sempre essere pagina facebook twitter instagram canale telegram vado a scrivere gioppo gamer e mi trovate insomma su questi social dove potete farmi anche le domande su qualsivoglia insomma videogioco giapponese che porto soprattutto sul canale e in più come sempre il mio consiglio è quello di iscrivervi al mio canale soprattutto di attivare la campanella per non perdervi nessun video in uscita quotidiana e infine vi ricordo anche il mio blog su wordpress all'indirizzo giappogamer.home punto blog dove di antintanto appena posto scrivo le news e anche le riflessioni sui giochi che riesco a portare a termine sul canale e allora dal vostro giappogamer per il momento è tutto matanè e ai prossimi episodi giochi neat di